Buongiorno a tutti, oggi Anna Senatore vi parlerà del respiro, di quanto sia importante respirare. Solitamente nel mio campo io insegno il benessere zen attraverso il massaggio, ma il respiro è qualcosa di fondamentale perché respirare è alla base di ogni essere vivente, anche gli alberi respirano e quindi nel loro caso prendono l'anidride carbonica e la trasformano in ossigeno. Noi invece abbiamo questo processo inverso, utilizziamo ossigeno ed espiriamo anidride carbonica che è tossica. Insieme all'anidride carbonica il respiro facilita anche attraverso determinate tecniche la liberazione di tossine, di scorie, di pensieri molesti, di pesi, quelle zavorre, quelle limitazioni. Fondamentalmente attraverso il respiro riusciamo a entrare in contatto con noi stessi, quindi con questo profondo raccoglimento e poi riusciamo a dare subito nell'immediato una percezione di benessere perché l'ossigeno entrando nel sangue attraverso i polmoni riesce a ossigenare le cellule e le cellule giustamente sono fondamentali perché entrano a contatto con tutto l'organismo. Ogni organo è fondamentalmente fatto di cellule e se la cellula è ricca di ossigeno e non di tossine chiaramente aiutiamo tutto l'organismo a vivere meglio. Tanto è vero che chi soffre di ansia, di attacchi di panico o è semplicemente una persona semplicemente ansiosa cosa fa? Solitamente blocca il respiro, cioè proprio smette di respirare al punto che il nostro organismo ci fa fare o uno sbadiglio o un sospiro perché immaginate questo è come se il nostro cervello ci ricorda che siamo in una sorta di apnea ed è importante respirare. Se al cervello non arriva ossigeno possiamo avere mal di testa quindi uno dei primi sintomi in cui ci accorgiamo che non stiamo respirando bene è quando abbiamo questo mal di testa, un ronzio. Solitamente quando viviamo magari in ambienti chiusi negli uffici soprattutto d'inverno effettivamente o anche nelle abitazioni può capitare che abbiamo i termo magari anche accesi quindi riscaldamento vanno comunque a eliminare parte dell'ossigeno e quindi sarebbe opportuno areare i locali ma quando l'area è viziata solitamente cosa si fa? Si fa areare il locale, si va a prendere una boccata di aria fresca. Dove vi sto conducendo? Probabilmente per chi mi conosce e sa che sono anche un attivista e che non indosso la mascherina perché io non nego il covid, io non nego nessuna malattia e non nego nessun virus o batteri o microbo che possa essere patogeno perché io ho dalla mia la certezza che il sistema immunitario è stato creato così come ogni organo e ogni sistema all'interno del nostro organo è stato, non è un caso che si trovi lì e ha delle funzioni specifiche, il nostro sistema immunitario ci protegge da tutti gli attacchi, la nostra pelle quindi le mani, il naso crea proprio la condizione ottimale perché possiamo avere le prime difese immunitarie e quindi prima che entrano dei virus e dei patogeni aggressivi abbiamo già le prime difese e salvaguardare il sistema immunitario attraverso il respiro, una sana respirazione rinforza anche il sistema immunitario, la mancanza di stress, di agitazione, di ansia, di angoscia, tutte quelle emozioni che producono poi l'innalzamento del cortisolo sono deleterie perché il cortisolo va a creare quello stato di agitazione come se l'organismo deve capire se attaccare o fuggire. Restare continuamente in uno stato di attacco e fuga dove grazie a questo terrorismo mediatico la gran parte delle persone che ascolta poi la televisione o legge i giornali è costantemente bombardato da queste notizie che non danno rassicurazione perché invece mettono sempre uno stato di ansia perché la prima cosa che si fa è leggere i bollettini che poi sono anche numeri che bisogna saper leggere e infatti quello che invito a fare è leggere bene i numeri, guardare le statistiche e quindi tornando al nostro respiro sappiate che senza respirare si può stare minuti. Adesso mettendo su un piatto della bilancia per la nostra sopravvivenza quanto sia importante dormire, mangiare, bere, vi posso garantire che tutto quello che è il respiro rispetto alla causa di morte abbiamo in ordine di tempo minuti a disposizione. Chi fa apnea o magari è abituato a fare meditazione, yoga può arrivare magari anche a 12-13 minuti, ma altrimenti una persona normalissima può stare sì e no 3-4 minuti senza respirare, creando comunque dei danni al cervello. La prima cosa che normalmente crea la mancanza di respirazione è spesso proprio un danno cerebrale, ma adesso lasciamo perdere l'aspetto puramente degli effetti collaterali. Quindi se noi non respiriamo o respiriamo male, questo è dannoso per il nostro organismo, perché se noi immaginiamo che senza respirare possiamo stare minuti senza bere dei giorni e senza mangiare un mese anche, è chiaro che da una scala da 0 a 10 il valore respiro a mio avviso è al numero 10, occupa proprio la scala maggiore come valore. Quindi vi invito a indossare la mascherina con moderazione e la moderazione a mio avviso è tenerla, se proprio non riuscite a fare a meno, avete tutte le vostre buone ragioni, non le voglio sapere, vi suggerisco di tenerla almeno sotto al naso in modo tale che non respirate la vostra stessa anidride carbonica. Perché vi sto dicendo questo? Sia perché non alimentate, cioè in questo modo non alimentate sufficientemente il vostro corpo di ossigeno, ripeto l'ossigeno è sacrosanto, e poi perché tenere a lungo la mascherina, a lungo andare potreste avere problematiche legate a polmonite demicotiche. Vi sembrerà strano? Vi posso garantire che se studiate e cercate medici che lavorano con coscienza e che sono magari dei pneumologi o comunque medici coscienziosi che sanno quali possono essere gli effetti collaterali dei danni in cui si respira umidità, perché poi fondamentalmente se voi non ci credete basta che mi risulta che dopo anche soltanto 20 minuti la mascherina è umida. A mio avviso l'umidità è un'altra cosa che non ha mai fatto bene, gli ambienti umidi hanno sempre creato problemi ai polmoni, quindi se davvero voi ci tenete alla vostra salute, ai vostri polmoni, la prima cosa da fare è cercare di respirare il più possibile, soprattutto all'aria aperta, cioè che voi possiate indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Ripeto, non voglio sindacare le vostre scelte, ma voi che lo facciate all'aria aperta allora vuol dire proprio che bisogna che vi informiate realmente se la trasmissione dei virus è possibile che avvenga stando all'aria aperta, senza avere baci e per baci intendo proprio scambi di saliva perché è risaputo che uno dei modi per cui ci si può contaminare è la saliva. Quindi a mio avviso se a me mi arriva uno sputacchio non mi fa nessun problema perché penso che nella volta, nella vita almeno una volta a tutti sia capitato nello sputacchiare o nel ricevere qualche sputacchio. Non succede nulla e a tutt'al più può rinforzare il sistema immunitario perché se continuate a stare in una sorta di campana di vetro dove avete paura di tutto quello che può essere una malattia non vivete più perché non pensate mica che c'è solo il coronavirus. Sappiate che delle indagini che sono state fatte sono estremamente allarmanti per quante altre patologie sono state accantonate e quindi ci sono liste d'attesa lunghissime e la sanità sta andando veramente alla deriva. Probabilmente è una volontà, non lo so, di sicuro quello che cerchiamo di raccomandare io, dei medici coscienziosi, io non sono un medico lo vorrei precisare ma sono una consulente del benessere psicofisico ed energetico e nessuno, ripeto nessuno, può venirmi a dire che devo indossare una mascherina per il mio bene e per il bene degli altri. Io utilizzerò con tutte le mie forze la volontà e negherò il consenso a pratiche che sono intanto trattamenti sanitari, ripeto trattamenti sanitari tali per cui l'articolo 32 della Costituzione vieta qualsiasi trattamento se non è volontario perché dopo Norimberga anche i crimini di guerra abbiamo visto benissimo che ci sono cose che possono essere fatte per una causa maggiore, per un potere superiore e poi dopo creano veramente delle condizioni disumane. Io ripeto non voglio polemizzare però vi lascio la possibilità di farvi davvero qualche domanda e soprattutto di rispettare la volontà di chi non la pensa come voi. Questo è importante da dire perché nel momento in cui io mi ritrovo in un supermercato dove i clienti o un responsabile o la cassiera mi impone di fare qualcosa, considerando che ognuno è libero di fare quello che vuole del proprio corpo, c'è la libertà personale che è l'articolo 13 della Costituzione e non si può violare assolutamente. Decido io se mettermi la maglia a collo alto, la sciarpa, il cappello, i guanti d'inverno per proteggermi dal freddo. Nessuno può venirmi a dire eh fa freddo ci sono zero gradi si metta sciarpa e cappello e guanti, cioè ma di che cosa stiamo parlando? E stiamo parlando di indumenti. Pensate un po' se dobbiamo usare dei presidi medici perché la mascherina è un presidio medico, fra l'altro dovrebbe essere certificata, fra l'altro dovreste controllare se ha una marchiatura c'è e quindi è conforme e dovreste realmente preoccuparvi della vostra salute. Ripeto a partire dal respiro. Detto questo io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao!